E buongiorno facciamo una prova di nella nostra radio e vediamo un po' di cosa possiamo dire e fare. Today's music ain't got the same song I like that old time of rock and roll Don't try to take me to a disco You'll never even get me out on the floor In 10 minutes I'll be late for the door I like that old time of rock and roll Allora abbiamo la nostra radio Blue Animation con Mr. Mazzotta DJ come ogni giorno dal lunedì fino a venerdì a lavoro come dopo scuola dove anche i ragazzi fanno sia attività e sia sullo studio Ovviamente ogni giorno fanno varie attività anche non solo motorie e non solo alcune diciamo come lavoro di studio Fanno anche dei disegni oltre i disegni ovviamente hanno attività oltre fisica anche motoria e mentalità per i ragazzi che vanno lì a dopo scuola Che ovviamente sarebbe il gioco che si fanno con vari strumenti di lavorazione come la giostra che ogni tanto vanno a giocare sulle altalene o come ogni giorno fanno anche delle feste per i ragazzi per fare Carnevale come quest'anno come carnevale come quest'anno come quest'anno a venerdì c'è il carnevale Alla prossima puntata ovviamente abbiamo Discuteremo per l'appunto La festa di venerdì Che fanno carnevale Che sarebbe la festa di carnevale Grasso Ovviamente abbiamo anche un ospite Che ci parlerà per l'appunto Di questa festa Ciao Ci vedremo lunedì La festa di venerdì La festa di venerdì ovviamente metteremo anche delle musiche adatte sia per carnevale e sia per i ragazzi che per animare i ragazzi ovviamente la prossima puntata ci sarà altre canzoni oltre a queste canzoni qua noi abbiamo un discorso che tra un po avremo su un altro canale di una nostra diretta e vedremo come fare noi siamo sempre al posto disponibile del vostro orgoglio e ovviamente saremo su youtube per rispondere ogni domanda e ogni puntata per alcuni canzoni a 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 per interruzione ci vedremo dopo Noi ci vedremo alla prossima puntata qui finisce la nostra Radio Blue Animation spalancate le orecchie gattizzate le antenne siamo pronti con la programmazione giornaliera